Questa volta i problemi sono stati più tecnici che fisici. L'incidente avvenuto fra due auto in via Malcangia, l'incrocio con via San Magno, infatti, non è stato tale da determinare particolari problemi per le due ragazze coinvolte che sono rimaste lievemente ferite ma non dovrebbero avere avuto bisogno di un ricovero. Tuttavia, nell'attesa dell'arrivo di una pattuglia della polizia locale già impegnata altrove, mentre nel frattempo era già partita la quotidiana chiusura serale del centro storico che impegna gli altri vigili, l'ambulanza è 118 di Trani, intervenuta per prestare soccorso alle due donne, ha dovuto attendere sul posto fino a quando non è sopraggiunta la pattuglia del comando di polizia locale. Solo all'arrivo dei vigili le due ragazze sono state trasportate al pronto soccorso di Trani. Per tutto questo tempo ed anche nella successiva fase servita per rilevare l'incidente, sulla strada si sono create code anche a causa del soffermarsi dei curiosi circa l'entità del sinistro. Per la cronaca, una Punto Blu, proveniente dal centro, svoltava a sinistra in via San Magno, mentre dall'altro lato sopraggiungeva una 500 rossa. L'impatto è stato molto forte, ma solo le auto hanno riportato grossi danni.